di tv1. Benvenuti ad un nuovo evento in Toscana, presentazione della nuova proloco di Reggello e Cascia venerdì 8 dicembre 2017. Alle ore 14 il presepe della Croce Azzura con la sua inaugurazione. Dalle ore 17 del pomeriggio l'accensione dell'albero di Natale ed intrattenimento con il clown Bussola, musica live con Cristian Laurini. A seguire la presentazione del calendario degli eventi del 2018, il discorso del sindaco della città di Reggello, food, musica agli ottoni di Massimo Caldelli e lotteria con 10 premi. Per tutti i volontari della proloco e per i bambini intervenuti, pizza offerta dalla presidente stesso della proloco.